Ultime sedute in Consiglio Comunale a Pescara in vista delle amministrative tra delibere ritirate come quella sul regolamento per i Deor e le piccole e grandi manovre più o meno lungimiranti. Assetti giustificati oggi l'ex sindaco Luigi Albore Mascia che chiede primaria nel centro-destra per stabilire il candidato sindaco e Massimiliano Pignoli passato da qualche giorno al gruppo misto. Movimenti questa volta obbligati anche nella scuola di governo con l'uscita di scena di Antonio Blasioli. Neo consigliere regionale rimpiazzato da Giovanni Di Iacovo che Alessandrini un po' a sorpresa ha indicato come nuovo vice sindaco. Vicesindaco è un onore enorme per me che amo tantissimo questa città e faccio politica e vivo ogni aspetto di questa città tantissimi anni. E' un onore sicuramente che per me non è un epilogo di un periodo ma è l'inizio, il prologo di una nuova storia secondo me che scriveremo anche nei prossimi anni. E' Antonio Natarelli indicato insieme a Marco Presutti come uno dei papabili vice primo cittadino e che invece si deve accontentare, si fa per dire, della delega dei lavori pubblici e del personale. Sono ben lieto di fare l'assessore anche perché ho degli assessorati importanti, i lavori pubblici e il personale quindi avrò da lavorare. Insomma il ruolo è secondario, non è quello il problema. Su fronte alle elezioni a tre mesi dall'appuntamento con le urne si continua a dibattere nel centro-sinistro tra vertici e riunioni e nella lista dei possibili aspiranti. Il nome nuovo è quello dell'onorevole Vittoria Dincecco, ben felice di seguire le urme di suo padre. Già detto di Pignoli, resta in attesa di conoscere da vicino le intenzioni del centro-sinistra Gianni Teodoro, che non esclude un cambio di casacca. Mentre Riccardo Padovano smentisce con decisione un suo passaggio all'Udc, ribadendo la sua intenzione di candidarsi al sindaco con una nutrita lista civica, alla quale dovrebbero partecipare anche due consiglieri uscenti, per ora top secret. Chi voglia fare il sindaco in questa città debba tenere conto di due o tre punti fondamentali per poi farli decollare. Per quanto riguarda quello che dicono i giornali, io sono su Pescara domani, certo faccio una lista civica, a fianco alla mia lista civica ci possono essere altri partiti che si vogliono avvicinare, ben vengono, io non ho le porte chiuse, chiaramente vengo da una zona prettamente legata alle attività produttive, il centro naturale e commerciale deve essere valorizzato. Sulla questione della risulta va rifatto un progetto tutto da capo, perché quel progetto così come è stato presentato toglie i parcheggi alla città e la viabilità.